Partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juvengold, dai ragazzi! Attenzione che prova ad infilarsi la Torino nella nostra area di rigore con una conclusione, subito provata. Uivoda è libero Brecalo che riceve dentro l'area di rigore, attenzione ragazzi, pericolo! Palla che passa nell'area piccola, sotto le gambe di Alexandro, pericolo! Ibala, Ibala sposta per Vlaovic, bene, con l'esterno per Zaccaria, benissimo dall'altra parte per la corsa di Rabiot! Rabiot va in anticipo, Rabiot entra nel rigore, Rabiot, Rabiot sull'esterno, sinistra! Fuori! Cross di quadrado su secondo, palo schiacciata di testa, gol! Gol, gol, gol! La Juvengold si accende, la luce di Matthijs Delit, secondo gol nel derby della sua carriera! Bianco-nera! Mentre rivediamo ancora una volta la schiacciata a due passi dal portiere di Matthijs Delit! Pellegrini può crossarla, è marcato stretto, la mette bene in area, c'è una fitta di bala a sinistro! La parata di Savic, ancora lì Morata, forse un tocco con il braccio, no, si prosegue! Allora prova a uscire il Toro, ma facciamo buona guardia con Alexandro, siamo già di là! Limite, Morata a destra, improvviso! Centrale, si accascia e para nuovamente Milinkovic-Savic! Attenzione, Voivoda in area, Voivoda, è libero Mandragola, esterno sinistro! Ci mette la punta delle dita Scesni! Di bala, di bala, è buona, di bala si gira a sinistra, improvviso! Fuori! Mezzo metro sulla sinistra della porta, difesa da Milinkovic-Savic! Quadrado, Vlaovic in area, Quadrado, Quadrado, doppio passo, Quadrado, vuole metterla in mezzo, ribattuta ancora, Quadrado, tira in porta! Ha cercato il gol alla Quadrado, quello è impossibile, palla sull'esterno della rete! Brecalo in posizione di ala sinistra, prova ad attaccare Quadrado, va sul fondo con la finta, il cross in mezzo! E il pareggio al volo di Belotti! Il cross in mezzo improvviso, il sinistro al volo di Belotti, che segna il suo gol numero 108! Vlaovic, limite! Vlaovic, Mancino! Deviato in calcio d'angolo, stava andando dritto in porta! Nella stessa posizione di prima, cerca le finte su Quadrado, poi tacco per Mandragola! La conclusione deviata! Finisce sul fondo, ha altro pericolo, corner per il toro! E allora non c'è più tempo, arriva uno, arriva due e arriva tre! Il triplice fischio del signor Massa, manda definitivamente le squadre negli spogliatoi! Juventus 1, gol di Matthijs d'Elite, Torino 1, pareggio di Belotti!